salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi un video un po' alternativo un po' diverso dal solito oggi vi porto a fare un tour di quello che è il mio studio cioè dove registro i miei video di youtube dove monto e faccio manutenzione dei miei droni fpv dove uso le stampanti 3d quindi quello che diciamo tutto quello che vedete normalmente su youtube passa sempre attraverso diciamo questa stanza è una stanza piccola quindi tre metri e mezzo per tre metri e mezzo ma all'interno c'è veramente di tutto anche fin troppo di tutto nel senso che c'è veramente un casino esagerato quindi ragazzi direi di non perdere altro tempo e iniziamo il tour ecco ragazzi siamo all'interno del mio studio qua ci troviamo di fronte una scala che porta a letto a soppalco che è inutilizzato o utilizzato pochissimo solo se abbiamo qualche ospite e qua sotto c'è tutta la parte di studio che normalmente vedete su questa mensola c'è cose interessanti tipo questa formula 1 in stampa 3d che ho stampato tre o quattro anni fa che ho reso radiocomandate funziona da dio presto la riporterò sul canale perché secondo me con le nuove action cam si potrebbe tirare fuori cose interessanti anzi molto interessanti qua dietro abbiamo una playstation mini classic qua abbiamo il drone della parot famosissimo praticamente il primo drone che si poteva utilizzare con uno smartphone che funzionava in maniera decente qua abbiamo il green hornet di iFlight qua abbiamo il titan xl5 di iFlight che recentemente chi mi segue sulle storie su instagram ha visto che ho portato in versione digitale quindi presto lo riporterò sul canale appunto per provarlo con la versione digitale di dji qua abbiamo un millennium falco in stampa 3d e poi colorato qua abbiamo un dronino di mia figlia giocattolo qua abbiamo invece un drone davvero particolare un drone fatto con un tappo dello spumante che mi ha mandato un mio scritto l'anno scorso proprio in questo periodo come regalo che saluto ciao davide ovviamente un dronino super artigianale ma fatto davvero bene ed era proprio in questo periodo l'anno scorso era natale dell'anno scorso quando me l'ha spedito qua abbiamo un dar vedere sempre in stampa 3d qua abbiamo invece un r2 d2 della lego ma versione cinese nel senso che sono lego cinesi ma dimensioni numero di pezzi e progetto è identico a quello originale lego poi qua abbiamo Drogon il drago di Daenerys Targaryen del trono di spade della megablock quindi non della lego anche se fatto sempre a mattoncini qua abbiamo il mitico soul goodman numero 1 che muove anche la testa chi ha visto breaking bad non può che ricordarsi soul goodman qua abbiamo il mitico steve jobs e qua abbiamo un suo prodotto un ipod touch di vecchissima generazione funzionante poi qua abbiamo un commodore 64 mini e qua abbiamo una spada di Luke Skywalker stampato recentemente chi mi segue su instagram ha visto tutte le vari passaggi di quando l'ho stampata e assemblata poi qua abbiamo droni vari abbiamo il vector versione 3 5 pollici della hg lrc drone incredibile che ho portato sul canale e che riporterò sicuramente qua abbiamo altri droni abbiamo un piccolo 3 pollici e poi abbiamo dei droni piccolini della beta fpv e qua il drone più bello che ho il drone che mi ha regalato mia figlia per il compleanno poi torniamo indietro da questa parte qua abbiamo un baby yoda stampato in stampa 3d poi qua abbiamo batterie varie qua abbiamo filtri per le telecamere che utilizzo poi qua abbiamo il power e x qua abbiamo un alimentatore incredibile che possiamo attaccare diciamo carica batterie da 220 volte nel senso che ha la presa classica che utilizziamo normalmente in casa quindi possiamo attaccare direttamente un alimentatore delle batterie dei nostri droni e lui le ricarica attraverso l'alimentatore ci si può attaccare davvero di tutto è incredibile come prodotto poi qua abbiamo un nintendo classic mini qua abbiamo un altro prodotto sempre di breaking bad è un prodotto davvero questo particolare perché è jesse pink man che in questa versione è attualmente introvabile ed è un pezzo davvero davvero raro non è mai stata aperta questa confezione quindi un pezzo davvero davvero raro qua abbiamo la statuina che ho stampato di joseph prusa cioè il proprietario dell'azienda prusa origina cioè le stampanti 3d poi qua abbiamo un mazinga che ho assemblato mi aveva regalato mia moglie l'anno scorso da assemblare qua abbiamo la mitica ogc portatile console fantastica per giochi arcade qua ci sono io sempre stampato in stampa 3d qua abbiamo scatole varie di tutti i prodotti che ho e che utilizzo normalmente qua invece abbiamo tutti i pezzi per adattare le telecamere sui vari cavalletti supporti mi dicendo quindi c'è un po di tutto per fissare le telecamere qua abbiamo una serie telecamere che utilizzo normalmente per fare le riprese video in esterna soprattutto qua abbiamo gli occhiali fpv di dji qua abbiamo mavic air 2 qua abbiamo il mini 2 e qua abbiamo il mavic mini prima versione qua abbiamo un monitor dove ho collegato la console o meglio il joystick della ogc qua abbiamo la console ogc che fa funzionare ovviamente il joystick qua la telecamera della canon che è quella che mi riprende normalmente quando registro i video e qua il mio mac da 15 pollici che è quello che utilizzo normalmente per fare praticamente tutto quello che vedete sul canale poi ci spostiamo qua in alto qua abbiamo il case per rendere waterproof il power release qua i prodotti che utilizzo per non fare appannare far scivolare via l'acqua dal case poi qua le batterie per i droni fpv tutte messe in storage queste quindi le metto a caricare quando mi servono altrimenti sono qua in storage qua dentro metto quelle che normalmente ho caricato quindi quelle che so che devo utilizzare che sono cariche le metto qua dentro poi qua abbiamo vari pezzi qua abbiamo l'hg lrc hd un cinew secondo me fantastico incredibile l'avete visto sul canale è un drone che merita davvero davvero tanta attenzione anche perché il prezzo non è elevatissimo ma il drone è di qualità davvero pazzesca poi qua ci spostiamo nella parte carica batterie drone fpv quindi qua ho questo alimentatore che riesce a caricare due batterie contemporaneamente più questo che ne carica una da sola però normalmente questo lo utilizzo poco è sempre lui che fa tutto questo carica batterie è davvero pazzesco il numero uno secondo me dei caricabatterie per i droni fpv secondo me il numero uno per caricare le batterie dei droni fpv poi qua in alto abbiamo oggetti vari che sono cose un po inutili quali stampe 3d che ho fatto all'inizio stiamo parlando di 4 5 anni fa quindi sono proprio le prime stampe che avevo fatto qua supporto per attaccare la dji osmo pocket e qua è un microfono che però non utilizzo più che prima invece utilizzavo quando registravo i video poi qua in terra abbiamo lo zaino quello che uso con i droni fpv quando vado a far volare i droni fpv poi qua sotto invece alla scrivania c'ho uno scaffalino con tutte le scatole di cose che ho recensito che devo recensire o di prodotti che momentaneamente non so dove appoggiare quindi sono qua sotto e poi qua invece da parte abbiamo la console a due player della ogc che quando voglio giocare con mia figlia è questa quella che utilizzo e collego alla tv perché appunto è a due player e poi adesso ci spostiamo da questa parte nella diciamo quello che è il reparto tecnico allora qua abbiamo il saldatore perché qua è dove faccio praticamente tutto quando assemblo i droni fpv o manutenzione i droni fpv o quando faccio cose in cui devo usare gli attrezzi diciamo roba piccola altrimenti le cose grosse le faccio in garage ma diciamo quello che è la minuteria la faccio da questa parte quindi attrezzi viti pezzi di droni fpv attrezzi attrezzi fili cavi cioè c'è veramente di tutto poi qua c'è tutto questo scaffale dove c'è praticamente ogni tipo di bomboletta dalle vernici all'alcol e alla trielina all'alcol isopropanico per pulire i piatti delle stampanti 3d vari grassi lubrificanti per le stampanti 3d e non solo c'è veramente veramente di tutto attacche scotch nastri adesivi c'è di tutto qua cassette con dentro ricambi di droni fpv viti cavi c'è veramente di tutto qua dentro qua abbiamo batterie inutilizzate qua abbiamo ancora cassettine con dentro cose che sempre per i droni fpv poi ci spostiamo da questa parte qua in altro scatole con dentro cose che non so neanche più cosa c'è dentro qua abbiamo le coppe che tengo su questa vetrinetta che sono le coppe di quando correvo con le slot car quindi tutte le coppe che più importanti perlomeno queste quelle di gare più importanti che ho ottenuto con le slot car poi qua abbiamo una playstation sony prima versione tutta originale qua abbiamo un visore quali economici in cui ci va dentro un cellulare qua abbiamo le amiibo della nintendo poi cosa abbiamo qua una costruzione lego di formula 1 e poi qua ci spostiamo sulle stampanti abbiamo una stampante canon per stampare su carta e qua ci spostiamo alle stampanti 3d qua abbiamo una longer lk 4 pro che appena finito di stampare un pezzo in tpu per la telecamera del dji e qua poi ci spostiamo ancora qua arriviamo alla prusa original la stampante 3d secondo me davvero incredibile forse la numero 1 in assoluto che sta stampando cose qua invece abbiamo un tavolino che è pieno di prodotti stampati che chi mi segue su instagram ha sicuramente già visto perché sono tutti gli ultimi progetti che ho fatto però questo tavolino oggi servirà per qualcos'altro perché è in arrivo proprio in consegna oggi un'altra stampante che ovviamente finirà su questo tavolino dell'ikea è una stampante che non vi dico qual è ve la porterò sul canale è in consegna oggi quindi non vedo l'ora di provarla me l'ha inviata a questa azienda appunto per portarla sul canale e per recensirla quindi la metterò qua insieme alle altre due stampanti poi faremo magari un confronto fra tutte perché comunque sono tipologie di prezzo ovviamente diverse qua invece ragazzi un po di foto e di autografi del superbike 2001 a misano questo sono io quindi ci sono un po di autografi dei piloti mentre di qua ancora siamo sempre nella superbike però questo è il 2002 a Monza e anche qua ragazzi un po di autografi di piloti del superbike di allora quindi ragazzi questo era il tour del mio studio quello che è diciamo il locale della mia casa dove passo tanto tempo quando ovviamente non devo fare altro e soprattutto quando non sono a lavorare perché lo youtuber attualmente non è il mio lavoro quindi faccio tutt'altro e quando sono a casa e ho tempo sono all'interno di questa stanza perché o per una cosa o per un'altra c'è veramente tante passioni all'interno di questo ambiente tanta tecnologia qua dentro davvero ragazzi è il mio parco giochi quindi quando ci posso stare ci sto e mi rilasso e mi dà tanto piacere starci sia per registrare video che poi condivido per voi che per fare cose anche solo per me cioè manutenzione a un drone fpv o progetti di stampa cioè c'è veramente di tutto qua dentro tutto quello che mi fa stare bene e mi fa rilassare quindi ragazzi se questo tour all'interno del mio studio vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su scrivetemi nei commenti cosa ne pensate se pensavate che era così se invece lo pensavate diverso rispetto a quello che di solito è solo l'inquadratura che vedete normalmente quando registro i video iscrivetevi ragazzi al mio canale instagram dove vi porto tante novità curiosità seguitemi anche lì perché tante cose arrivano lì che poi magari su youtube non arrivano iscrivetevi se vi va al mio canale telegram offerte per sostenere appunto questo canale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo una recensione un test un tutorial una novità ciao ragazzi